Siamo qui per due motivi fondamentali. Come 3D Agricola Italia sentiamo forte l'esigenza di supportare i nostri clienti in questo momento evolutivo, straordinario e di complessità. Quindi ci serve profondità di analisi, studio, confronto e vicinanza. Il forum e l'associazione sono un momento straordinario per declinare alcuni di questi aspetti. Il secondo motivo è perché sentiamo, come anche detto durante il forum, forte la responsabilità che abbiamo. Il risparmio è una delle risorse fondamentali per il nostro paese. 4 mila miliardi la ricchezza del paese, 800 miliardi sono in mano al private banking. Quindi come operatori di private banking sentiamo forte questa responsabilità e forte il confronto che dobbiamo attuare per lavorare al meglio. Anche qua la risposta è duplice. In prima, come 3D Agricola, vogliamo dare una risposta di gruppo. Quindi non solo una risposta bancaria, ma una risposta che va a trasversare su tutte le sfaccettature del nostro gruppo in Italia. Quindi vogliamo dare una risposta ai bisogni di protezione tramite 3D Agricola Vita, la nostra compagnia assicurativa. Vogliamo dare una risposta di allocazione tramite l'asset management a Mundi e inoltre anche alla clientela imprenderà delle risposte dedicate e specifiche tramite la nostra banca di investimento. Il secondo livello di risposta è più interno e riguarda la profondità di preparazione che devono avere i nostri private banker, quindi le persone che sono a contatto con la clientela. Stiamo investendo fortemente sulla loro formazione e sulla loro capacità di dialogo e anche per questo abbiamo lavorato fianco a fianco con l'IPB, con l'associazione, per implementare e approfondire i livelli di preparazione dei nostri private banker. Inoltre vogliamo sempre più supportare i nostri private banker internamente formando delle figure specialistiche di advisory che vanno dall'asset allocation all'advisory sul mondo credito e le altre esigenze della nostra clientela.